Su questo dico due cose. Una, secondo me, staccandoci dal discorso educativo, questa linea, per quanto possa essere corretta, secondo me ha distrutto molti film ad animazione, tant'è che adesso per vedere film ad animazione di un certo livello ci si deve spostare dall'Europa e dall'America. Tant'è che magari anime giapponesi, Cina, addirittura India fanno dei prodotti per ragazzi che hanno degli aspetti, ripeto, indipendentemente dall'educazione e dal messaggio che poi veicolano positivo o meno, comunque di un certo livello, la Disney secondo me ha risentito moltissimo di questa assenza del villain. Io ricordo Big Hero 6, cioè c'è un villain che fa ridere i polli. È bello dal punto di vista estetico, però... Attenzione, Kabuki a me piaceva, perché ad esempio Kabuki era un villain figo proprio per il discorso che dicevi tu. Lui diventava cattivo perché gli era morto il figlio. Sì, ma non... Impazziva di dolore per la morte del figlio, quindi a me piaceva. Aveva un pretesto sensato, però la risoluzione è ridicola. No, ok, quello sì, sì. Cioè in tre secondi diventa buono. Cioè il villain... È vero. Anche se vogliamo monotematico, monolitico, cattivo, incarnazione del male puro, non lo troverai mai. Tant'è che poi hanno fatto un'operazione di completo restyling dei cattivi, no? Vari, Cruella, Malefica, eccetera. Il punto è che ormai non... Ormai i cattivi sono diventati buoni, protagonisti di film, cioè Cruella... Io mi ricordo in Cruella quando l'ho visto, sono scoppiato a ridere perché alla fine lei regala a Rudy e ad Anita Pongo. Ok? E c'è Rudy che prende Pongo e si mette a cantare la canzone Crudelia de Mon... Scusami, perdonami. Ma è come se suonassero la porta e mi dessero una... Il mio vicino di casa, Gigi Fantoni, mi desse una provola di 20 chili. Io dicessi grazie, mi mettesse appena forte nel senso Gigi Fantoni, figlio di Troia. Ma appena ha regalato una provola. Non è cattivo, cioè, ma ha regalato una cosa. Non ha senso, sì, sì. Non ha senso. Ma infatti si creano questi paradossi, cioè, come dicevi tu, Big Hero 6, c'è un cattivo che ha anche un passato interessante, ma la risoluzione finale avviene in tre minuti. Ok, mi pento, ho fatto delle cose sbagliate, grazie al cazzo. Cioè, però, non lo so, anche il fatto che si voglia cercare per forza una complessità nel Villain, secondo me ha senso alle volte, ma anche la costruzione del Villain puro ha un suo fascino proprio perché incompleto. Poi questa, secondo me, è divenuta una necessità anche per la serialità. Faccio un esempio. Uno dei Villain più importanti di tutti i tempi, no? Darth Hener, nei primi film di Guerra Stellari, era una cosa che apparentemente sembrava ridicola, però tu la percepivi come potentissima, inquietantissima, senza sapere molto. E' il male puro. Esatto, esatto. Lo sai, sì, sì. Esatto. E faceva paura proprio. In epoca contemporanea c'è un Villain di un film che, secondo me, è proprio la stessa roba di Darth Vader, che è Immortan Joe di Mad Max Fury Road. Vero, vero. Immortan Joe è quello. Non sai chi è, non sai il suo passato, sai solo che è cattivo, che si tromba le fighe e che ha una maschera spaventosa. Fine. Tra l'altro è difficilissimo farlo perché adesso, secondo me, si parla tanto, anche tu ne parli spesso nei tuoi video, di complessità magari nella scrittura di un personaggio, il background, però a volte si esagera e si infarcisce così tanto un Villain di elementi che alla fine lo depotenziano, perché lo rendono meno accattivante. infatti, quello che dici su Immortan Joe di Mad Max è perfetto perché tu non sai molto, però hai gli elementi necessari per capire determinate cose e ti basta quello. Cioè, è costruito talmente bene visivamente, con lo storico, anche degli altri film, va bene, sai un po' come funziona quel mondo, il discorso delle risorse, il despoto assoluto, però, porca troia, ti fa una paura boia. Io adesso sfido veramente a trovare un cattivo negli ultimi film a Disney, ma anche Pixar di livello, ma anche Disney intendo Marvel, è molto difficile. No, no, ma guarda, allora, forse l'unico degli ultimi tempi che a me era piaciuto era l'alto evoluzionario di Guardiani 3, perché era sopra le righe, però è veramente, c'è capito, è veramente cattivo. Cioè, è proprio, dici, ma che pezzo di merda. Anche a me è piaciuto, forse perché empatizzo tanto con gli animali. Sì, anch'io, ma poi tu hai tipo centomila gatti. Madonna, quanto ho sofferto con quel film, gli esperimenti sugli animali. Io ho pianto. Madonna, ho pianto pure io con quella scena. Ma poi, poi sai cos'è? Il fatto è che lui non ha un gran, non è che ti dice chi è il suo passato, ti dice solo che è il capo di una corporazione che fa evolvere le persone e le specie attraverso crudegli esperimenti. Anche quello non è un villain particolarmente, con una particolare approfondimento psicologico, è un villain che devi odiare e basta, ed è di una cattiveria imbarazzante. Ma poi funziona, funziona, ti ricorda anche gli esperimenti nazisti, funziona perché alla fine lui ha un piano molto semplice, cioè fa degli esperimenti per cercare di evolvere, di trovare la specie perfetta. Si crede Dio. Esatto, esatto. Ed ha anche un po' un complesso di inferiorità di un certo tipo. Come tutti i grandi cattivi. Esatto. Tutti i grandi cattivi. Ed è bellissima, secondo me, anche la scena in cui cade la sua maschera. Madonna. Sì. Bellissimo. Sì, sì. E peraltro, se io fossi stato bambino mi sarei cagato sotto, perché comunque l'improvviso di questo è che è un teschio con i muscoli. Ti richiama anche un po' quello che dicevi su Terminator, no? Eh, un po' sì, magari meno crudo, perché lì vedi proprio la lama che scorceva il braccio, però ti faccio un... giusto per dirti, per me è un po' desolante che si sia passati da frollo del Gobbo di Notre Dame a dei villain sempre di Disney molto più blandi o all'assenza di villain, cioè... e quando io rividi da più grande il Gobbo di Notre Dame, io ebbi un trauma, perché ovviamente da bambino mica avevo capito che questo... cioè questo è lì che canta il fatto che lui sta male perché si vuole trombare Smeralda, che peraltro... Granfregna, diciamolo. Ma no, no, ma a parte Granfregna, che sicuramente non era descritta proprio come maggiorennissima. Esatto. Se vogliamo... Però capisci che è bellissimo perché anche lì tu hai comunque un personaggio di cui ti bastano pochi elementi. L'ipocrisia, in quel caso, vabbè, di un fondamentalista che porta in alto la bandiera del suo Dio, ma in realtà semplicemente lo utilizza per giustificare tutte le sue violenze e quindi entra in contraddizione in quella scena perché lui prova una pulsione sincera, come dici tu, anche forse con tratti di pedofilia. E' un assassino a sangue freddo, è un razzista, grazie ansia, è un abilista, cioè proprio un pezzo di merda della peggior specie. Però pensaci un attimo, ancora oggi molti stati utilizzano la religione come pretesto per combattere delle guerre. Infatti era molto avanti per quello, c'è una roba del genere che io non l'ho più vista. Diciamo che lì non avevano avuto il coraggio di fare come nel romanzo che era effettivamente un ecclesiastico. Lì si sono limitati a dire è un giudice molto vicino alla chiesa. Sì, era un tirapiedi della chiesa, sì. Però non era un ecclesiastico. Anzi, la chiesa viene fuori quasi bene, perché comunque c'è il sacerdote che salva il prete, la che salva... Il sacerdote che salva Quasimodo. Esatto. Però se tu guardi tutta la sequenza di apertura della coppa di Notre Dame, lì vedi che il problema non è solo la questione del cattivo, cioè adesso io non voglio fare... No, è anche la copertura, cioè lui comunque era protetto. Ma no, ma non è solo quello, è proprio... Tu guardi il film e a livello di animazioni, a livello di colori, di regia anche... Cioè anche i film più belli di adesso, animati, sono sotto, non tutti... Il gobrodino della ragazza è devastante, poi c'è una colonna sonora che è mostruosa. Cioè la scena di apertura... No, l'inizio... Mamma mia, devastante. Con la madre Quasimodo che sta scappando e arriva Frollo con questo cavallo... Era spaventoso. Io mi ricordo che mi spaventoso. Tremendo. Non ero piccolissimo, ma ero piccolo. Era spaventoso. Sì, 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 tremendo, perché ci vedi proprio la brutalità e poi un altro elemento sempre nell'analisi della cattiveria. Gli scagnozzi di Frollo sono praticamente senza volto. Cioè sono degli esecutori che tu identifichi solo come... Questi sono dei pezzi di merda che seguono gli ordini e quasi ci godono anche. e alla fine tu prendi una madre, strappi il figlio ad una madre, la tratti come... E la sta per buttare nel pozzo. Esatto, la tratti come veramente una pestata assoluta. Eh, l'ammazza. Appunto, quindi è una roba veramente tremenda. Poi in Hellfire la canzone famosa, quella di cui si parlava, io ricordo ancora quanto cazzo mi fecero paura, quelle figure incappucciate che erano la personificazione del senso di colpa. Perché lui prova la posizione sessuale e vede questi inquisitori incappucciati senza volto che gli puntano contro il dito. È una roba che ancora oggi... Cioè se un bambino la guarda oggi si caga addosso. Sì, ma poi anche l'antropomorfizzazione di Notre Dame. Mamma che bello. Lì quando si spaventa Frollo. Che infatti dice pure nella canzone no, per la prima volta ebbe un po' di paura nel cuore. Per la prima volta Frollo tentennò. Una cosa assurda. Però non lo so, forse è vero che siamo un po' vecchi ma me ne vengono in mente tanti. Ma anche guarda, uno più leggero, un film più leggero, tipo le follie dell'imperatore. Anche lì, Isma, ma lo stesso protagonista è un pezzo di merda. Cioè quella è la cosa divertente. Cioè Cusco è uno sfruttatore che ha ammazzato le persone perché gli interrompono il musical. Ha rotto il ritmo all'imperatore. Esatto, esatto. Mi hai rotto il ritmo. E quindi anche lì, con ironia, però ti fanno passare certi concetti. Il classismo, anche l'arrivismo. Isma è un po' lo Iago Shakespeareano. Cioè quello che sta accanto al capo e non vede l'ora di prendere il suo posto. E' un Jafar al femminile, però più divertente. Però è quella roba lì. Esatto, esatto. E poi, ricordate, io sono abbastanza convinto che il sottinteso fosse che Kronk fosse il suo toyboy. Questo non me lo tolgerà mai. Palesemente, sì. Ma dai, giovanotto palestrato. E poi, a proposito di Iago, tu hai nominato Jafar, che è a sua volta lo Iago Shakespeareano, ma ha il suo Iago, che è il pappagallino. Eh, certo, sì. Bellissimo. Anche Aladdin, film incredibile. Io ricordo, ecco, Jafar è un villain terrificante, anche perché a me piaceva l'idea che non morisse. La maggior parte dei villain Disney, beh, lascia stare Isma, che comunque era un film, è un film in cui avrebbe stonato la morte dei villain, però nella maggior parte dei film Disney i villain morivano male. Io ricordo ancora in Tarzan, Clayton, che finiva impiccato, anche lì. Cioè, la scena è ovviamente edulcorata, però mi ricordo che mi lasciò stupito, perché questo finiva impiccato malissimo tra le liane. E comunque, cioè, il fatto della morte dei villain era fondamentale anche, ma c'erano anche dei film in cui il villain magari non moriva e Jafar, per l'appunto, non crepava, ma gli succedeva qualcosa di peggio. Veniva talmente consumato dal desiderio di avere il genio da diventare lui stesso alla fine il genio e avere talmente tanto potere per scoprire che il potere finca viene. Ma anche lì, infatti, vedi quante riflessioni escono fuori. Cioè, da ragazzino, io ricordo che cominciai piano piano, ovviamente, con la consapevolezza del tempo, ad elaborare queste cose. Cioè, Jafar, alla fine, è stato sconfitto dalla sua stessa cupidigia, no? Dall'avarizia. Dalla brama di potere. Esatto, il potere, cioè, lui a un certo punto aveva già tutto, tutto, però il genio e Aladdin, anzi Aladdin, con un escamodaggio interessante, cioè, praticamente, lo mette davanti alla sua insicurezza totale e quindi dice, sì, sì, tu sei un grandissimo stregone, sei potentissimo, però il genio sarà sempre più potente di te. E là, lo fotte. Bellissimo. Ah, a Bugs Life, pure molto bello. Bugs Life è bellissimo. No, la morte di Hop e la Bugs Life, anche quella è di una crudeltà incredibile. Sì, sì, ma pure lì, molto semplice, no? Il concetto di aggregazione, lotta di classe, ma anche Zeta la formica, filmone, se non sbaglio, anche scritto parzialmente da Woody Allen, comunque, lui era la voce, esatto, esatto. Cioè, ce ne sono veramente tanti. Ti chiedo una cosa. Cosa pensi a proposito del ritorno di Jafar, di Aladdin 2 e Aladdin 3? Poi ti dico la mia. Sono finché hanno fatto la mia infanzia. Le cassette le avevo consumate. Quando, molti anni dopo, ero già bello grande, avevo già un 26-27 anni, riguardai quei film, li guardai in fila, Aladdin, Ritorno di Jafar, eccetera, oh, salve. Dottore, come va? Buon salve. Buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera, sono un po' sfatto, che ieri ho esagerato un pochino, non volevo interrompere nulla, anzi, Victor, una persona che rispetto molto a livello cinematografico, se può continuare un attimo il suo excursus su Jafar, che sono molto incuriosito. Prego, prego, poi sentiamo anche la tua. Cioè, quando vedi, dopo tanti anni, il ritorno di Jafar e il, era, il, 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 no, come quello, il principe dei ladri, era? Sì? Il terzo era il principe dei ladri. Sì, è il terzo, dico, sì, sì. Rimasi assolutamente allibito, perché non me li ricordavo realizzate così di merda. Ma gli allografici erano orribili. Il cinema, sì, ma perché erano rispettivamente il pilota e l'ultimo episodio della serie animata, venduti poi come film in cassetta. Sì, non andarono al cinema. Ovviamente, una bambina non lo sapevo. No, 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 erano proprio, erano, era, la classica era dei film da cassetta della Disney, come Il Re Leone 2, che era praticamente Rome e Giulietta. Fecero anche il 3 con Timone e Pumba protagonisti. Quello mai visto. Sì, avevano fatto anche tipo la Sirenetta 2, Cenerentola 2, erano delle merde abbastanza clamorose. Di che colore era la Sirenetta? Cosa, scusa? In questi remake, di che colore era la Sirenetta? No, era sempre bianca, perché era ancora la sirenetta dei cartoni animati, lo so, lo so. A me non ha minimamente infastidito, cioè potevano farla anche di qualunque colore, più che altro, perché l'argomentazione più solida che mi sono sentito dare sulla Sirenetta nera è Hai mai visto una Sirenetta di colore? No, ma una Sirenetta nera? Non ho mai visto una Sirenetta, quindi non sapevo... E qua, cazza pennello la critica.